Ben ritrovati. La voglia di riprendere questi appuntamenti è una conferma positiva dell'idea iniziale da cui è nato un minuto. Svolgendo le ricerche per creare copioni su argomenti che desidero siano interessanti per tutti, vivo esperienze che vorrei condividere con voi. Riprendiamo presentandovi un documento governativo appena uscito. Si tratta della strategia italiana per l'intelligenza artificiale nel biennio 2426. Rappresenta una pietra migliare per il nostro paese, tracciando la strada da seguire per integrare l'IA nei diversi settori produttivi e sociali. Perché è importante? L'IA ha il potenziale di rivoluzionare l'industria, l'istruzione e anche la sanità, creando opportunità di crescita. L'Italia ha una ricca tradizione, una sua unicità ed è pronta a cogliere queste sfide trasformando le idee in soluzioni. In 40 pagina ho trovato un invito rivolto a tutte le persone. È importante partecipare a un cambiamento che riguarda tutti. Restate con me mentre esploriamo i dettagli di questo documento.